Musica Grande prestazione della pattuglia trentina nella crono scalata del Nevegalla nel Bellunese, settima prova del trofeo italiano velocità montagna, quello della Trento Bondone per capirci. A vincere è stato il fiavetano Christian Merli su Osella, già secondo sui tornanti dell'Alpe di Trento che ha preceduto i trentini Matteo Moratelli e Adolfo Bottura, staccati fra di loro di appena 13 centesimi. Merli ha anche stabilito il nuovo record sul tracciato, alla media di 129 km orali. Grazie a tutti.